Cari amici appassionati di calcio d'oltremanica, bentornati a una nuova puntata di UK Calcio Football League Show, l'unico programma in diretta streaming qui su Twitch e on demand su YouTube, che vi racconta tutto, ma proprio tutto, della Football League e soprattutto vi aggiorna su questi campionati che sono sempre molto molto avvincenti. Come potete immaginare, vedere dalle immagini che vi arrivano sui vostri dispositivi, c'è stata una modifica nello studio, quindi c'è un miglioramento, spero, sia nella qualità audio che nella qualità video della trasmissione. Non ci vediamo da qualche settimana, perché nelle scorse settimane ci sono stati altri programmi, quindi la scorsa giovedì scorso, per chi mi segue su Instagram, c'è stata la prima puntata di UK Calcio Social Pub, che avrà come ospiti vari personaggi, anche voi che mi seguite, perché no, in diretta su Instagram. La prossima settimana infatti ci vedremo, quindi non ci saremo qui su Twitch, ma ci vedremo su Instagram per un'altra puntata di UK Calcio Social Pub, questa volta col primo ospite che doveva esserci la settimana scorsa, ma per motivi personali non è riuscito a essere presente, Massimo Corsini. Quindi ci vedremo su Instagram la settimana prossima, due settimane fa ci siamo visti qui su Twitch con UK Calcio Show, la trasmissione che vi aggiorna su tutti gli altri campionati d'oltremanica. Quindi adesso cerchiamo di recuperare con la Football League e in questa puntata faremo il nostro solito giro tra i tre campionati, quindi Championship, League One e League Two, e vi aggiornerò su quello che è accaduto in queste ultime giornate. Però la prima grande novità di questa nuova gestione del programma, per così dire, è che abbiamo una sigla, quindi prima di cominciare io direi subito sigla. insieme a tutti i altri campionati. eccoci tornati in diretta quindi possiamo quindi cominciare questo quarto episodio questa quarta puntata di UK Calcio Football League Show e io direi come al solito anche per avere perché così potete seguirmi meglio nella discussione io direi di mettere subito in primo piano la classifica di championship che in queste ultime due settimane è un po' cambiata è un po' cambiata in che senso? in alto è cambiato ben poco perché abbiamo sempre lo Sheffield United che continua a macinare gioco e punti diciamo che cerca di fuggire verso la Premier League e adesso ha 5 lunghezze dal rating sempre con le stesse partite giocate quindi 10 partite giocate non ci sono partite che devono recuperare almeno le prime 7 squadre in classifica quindi il punteggio che vedete qui è assolutamente un punteggio reale è quello che rispecchia la realtà dei fatti diciamo che lo Sheffield si sta comportando molto ma molto bene in questo campionato e conferma quello che avevamo detto già all'inizio di questa stagione cioè che è la squadra favorita per salire certamente in Premier League il Norwich ha perso un po' di terreno perché nell'ultima gara di campionato è stato fermato dal West Bromwich Albion in una gara che è andata a finire 1-1 quindi il Norwich ha perso terreno le altre squadre hanno in particolare Reading e Burnley sono riuscite a rispondere alla vittoria dello Sheffield quindi riescono più o meno a restare in scia e invece al contrario le squadre che hanno perso terreno sono il Sunderland e il QPR che sono state fermate rispettivamente per 2-2 il Sunderland dal Watford mentre invece il QPR è stato fermato in casa dallo Stock City un pareggio per 0-0 questo ovviamente sto parlando dell'ultima giornata di campionato invece per quanto riguarda le altre squadre quindi la situazione in generale nella classifica della Championship vorrei portare la vostra attenzione sulla situazione dell'Halt City che nella parte bassa della classifica sta mostrando un segno di grande crisi 4 sconfitte consecutive si fanno certamente sentire e la zona di retrocessione si avvicina sempre di più è pur vero che le squadre in basso non è che siano molto come dire, abbiano, diano qualche risposta particolare a parte appunto il West Bromwich di cui ne abbiamo parlato prima è lo stesso Middlesbrough che continua a dare dei risultati un po' altalenanti il Coventry sta lì che ancora deve recuperare tre gare vi ricorderete ne abbiamo parlato dei grandi problemi che ha avuto con lo stadio, con l'impianto sportivo e questo sta condizionando un po' tutta la stagione iniziale del Coventry vedremo se riuscirà a riprendersi l'Huddersfield è riuscito a vincere l'ultima gara di campionato battendo di misura il Cardiff una vittoria importante perché ha anche una gara da recuperare rispetto alle altre dirette concorrenti quindi insomma questa è una vittoria che dà un po' di respiro alla situazione di classifica tant'è che poi lo stesso Huddersfield con questa vittoria sul Cardiff ha tirato giù clamorosamente proprio lo stesso Cardiff nella zona retrocessione e come potete vedere la situazione nella zona retrocessione della classifica è abbastanza caotica tipico segno della Championship per così dire perché la Championship è sempre stato un torneo molto combattuto ritornerei però qui a Schermio Intero per parlare un attimo più da vicino della situazione del Black Moon Rovers che devo dire è una squadra che mi sta molto deludendo perché come vi ricorderete in questa fase iniziale del torneo sembrava che la squadra di Thomas non dovesse dare una certa impronta alla sua stagione invece col passare del tempo è andata perdendo punti e sostanzialmente come potete vedere dalla classifica il Black Moon adesso con questi risultati molto altarenanti quindi una continua alternanza tra sconfitta e vittoria si trova addirittura a questo punto della stagione quindi dopo 10 gare fuori dalla zona playoff addirittura il che è un po' strano per una squadra che è partita così bene che però diciamo paga molto queste ultime gare di risultati altarenanti ancora di più tutto questo va a confermare il fatto che la Championship è un torneo davvero molto molto imprevedibile ed in fondo questo è il motivo per cui ci piace poi così tanto altrimenti non avrebbe un così grande seguito in Italia di persone che in genere amano il calcio inglese ma ancora più specificamente questo tipo di campionati quindi detto ciò, quindi chiusa questa breve parentesi sulla Championship io direi di passare velocemente, visto che abbiamo ancora altre cose da dire per quello che riguarda la League One quindi io andrei subito direttamente con la classifica e in League One la situazione vede sempre l'Ipswich Town primo in classifica con 21 punti anche se devo dire che l'ultima giornata è stata una giornata un po' particolare perché ci sono state delle sfide che hanno visto la parte alta della classifica quindi si sarebbe, e torniamo un attimo a schermo intero si sarebbe potuto verificare insomma un po' uno stravolgimento della classifica ci si poteva aspettare dalla parte delle prime quattro squadre una specie di strappo e ciò non è stato così quindi non è andata così e a conferma ancora una volta che questo è un torneo veramente molto molto equilibrato e quindi molto spettacolare ritorniamo appunto sulla classifica e vedete che le prime quattro tra di loro hanno tutte pareggiato con l'Ipswich che è stato fermato dallo Sheffield il Portsmouth, lo stesso Portsmouth non ne ha approfittato perché avrebbe potuto quindi andare prima in classifica non ne ha approfittato e è stato fermato dal Plymouth che sfrutta questo pareggio e comunque è un pareggio importante per tenersi aggrappato alla parte alta della classifica c'è da dire che questi quattro pareggi questi punti che hanno preso queste squadre hanno favorito quindi molto brave le inseguitrici e sto parlando di Bolton che viene da tre risultati utili da tre vittorie consecutive addirittura e Barsley che grazie a questi hanno sfruttato questi pareggi e si sono avvicinate molto di più alla zona della promozione diretta che almeno per quanto riguarda il Bolton dista soltanto quattro lunghezze quindi insomma un torneo davvero molto combattuto proprio quello che piace a noi quello che noi cerchiamo in questi campionati è il motivo principale per cui poi sono così avvincenti perché non c'è mai nulla di scontato e si gioca sempre a viso aperto per vincere qualunque sia la condizione di classifica delle squadre e in effetti a proposito di condizione di classifica delle squadre non possiamo non parlare di una squadra che era partita molto bene ma che poi nell'ultime settimane ha iniziato ad inanellare una serie di risultati negativi che ne hanno compromesso la resa e sto parlando del Peterborough United che con quattro sconfitte consecutive è scivolato al decimo posto in classifica e questo ovviamente va a minare le sue mire di promozione quantomeno anche dei playoff i playoff comunque sono sempre lì vicino stiamo parlando di due punti poi siamo soltanto all'inizio del campionato almeno io diciamo così io ritengo che almeno fino a marzo febbraio-marzo diciamo marzo le cose sono molto cioè la situazione sarà molto equilibrata in questo torneo davvero molto equilibrata quindi fino a febbraio-marzo ne vedremo delle belle e per quanto riguarda invece la zona bassa della classifica non si può non citare un crollo il continuo crollo del Forest Green che continua ad avere problemi di risultato ne approfittano però Morcam e Barton Albion con due vittorie e che quindi avvicinano più o meno la parte della classifica la parte diciamo la zona salvezza per così dire anche se la situazione non è per nulla non è per nulla facile adesso come è consuetudine ci avviciniamo verso la parte finale già della nostra trasmissione il tempo vola io cerco sempre di darvi delle notizie di riassumere il più possibile tutto quello che accade in Football League così voi potete essere sempre molto aggiornati e quindi per chiudere verso la chiusura della nostra ci avviciniamo appunto verso la chiusura della nostra trasmissione e passiamo alla League 2 la League 2 che come vi avevo già ne abbiamo parlato ampiamente in queste ultime settimane è un torneo che vede una netta distinzione tra la parte alta della classifica e la parte bassa qui vediamo proprio la differenza di livello delle squadre allora innanzitutto complimenti all'Eyton Orient che con 25 punti è una squadra veramente che sta dimostrando di essere di categoria superiore una squadra che vince dentro casa fuori casa ovviamente ancora in battuta solo un pareggio quindi veramente il Leyton Orient si sta dimostrando una squadra fortissima molto solida molto quadrata molto equilibrata che segna tanto subisce pochi gol veramente una squadra molto forte cercano più o meno di tenere il passo diciamo ci riescono Barrow e Northampton anche se non hanno lo stesso ritmo dell'Eyton Orient sono lì aggrappati io credo che lì queste due squadre si giocheranno il secondo e il terzo posto ma io penso che già e mi spingo oltre certo ecco a meno di clamorose rivoluzioni e ribaltoni in questo torneo anche se io ad oggi non ne vedo però certo è che tutto può accadere perché siamo sempre a fine settembre si sono giocate solo nove gare quindi il torneo è ancora molto lungo io penso che l'Eyton Orient abbia blindato il primo posto quindi la lotta sarà per il secondo terzo posto forse il Barrow potrà lanciare la fuga la si vedrà insomma però per parlare di fuga ancora presto ma il secondo e il terzo posto sono delle posizioni che si saranno che verranno giocate fino all'ultimo ne sono ne sono certo di questa cosa e quindi tornando sulla classifica la squadra che non è riuscita a tenere il passo e quindi ha allungato un po' la classifica è stato lo Stevenage che ha perso in modo abbastanza netto col Bradford Bradford che ne ha approfittato quindi andando ad agganciare il Salford che a sua volta è andato a perdere contro il Tranman Rovers in casa insomma una sconfitta un po' pesantuccia per quanto riguarda invece la parte bassa della classifica come già vi accennavo prima qui c'è una netta divisione tra le squadre forti e le squadre deboli qui proprio la differenza tra chi si gioca a un posto in playoff e chi invece deve lottare per non retrocedere è chiara ci sono due squadre in forte crisi sono il Doncaster che ancora regge la dodicesima posizione anche se viene da tre sconfitte consecutive scusate e poi un'altra squadra che non sta passando un bel momento è il Wimbledon altra compagine che aveva mostrato un certo equilibrio all'inizio anche se poi si è rivelata in realtà schizofrenia sportiva quattro sconfitte consecutive insomma difesa che sta diventando pericolosamente un colabrodo non sarà semplice cioè si rischia poi di entrare in un vortice tale per cui viene risucchiato dalla zona retrocessione e in questo torneo così in cui ripetiamo la differenza tra la parte alta la parte bassa e la classifica così netta essere risucchiati dalla parte dalla zona retrocessione davvero ci vuole veramente un attimo quindi bisogna stare molto molto attenti e che dire in questo in questo contesto il la parte della zona retrocessione come potete vedere dalla classifica non si muove l'unica squadra che ha mosso un po' le acque è l'Arrogate con un misero pareggio ma tutte le altre dal Newport in giù hanno tutte perso quindi questo è chiaro che in questo modo è molto difficile muovere la classifica le squadre che hanno fatto qualche anno per così dire racimolato qualche punto a inizio stagione mantengono lo status quo ma abbiamo il Rochdale che io lo do già un po' per spacciato perché due punti ecco vi rimetto la classifica due punti in nove gare sono veramente molto pochi e insomma la vedo molto difficile e dura per il Rochdale l'Hartley Pool ancora è aggrappato a una classifica in zona retrocessione molto corta insomma in fondo stanno tutte lì almeno fino al io direi fino ad oggi fino alla quindicesima posizione quindi fino al Walsall quindi sto parlando di quasi metà classifica sono tutte tutte rischiano certo se iniziano poi a se qualcuna riesce a iniziare a inanellare delle vittorie consecutive poi a quel punto la situazione potrebbe cambiare però al momento insomma la situazione vede chiaramente un allungarsi della differenza tra le squadre di alta classifica e le squadre di medio o ancora di più bassa classifica bene io vi ho aggiornato su tutto quello che c'era da aggiornarvi della Football League come sempre ci siamo tenuti nella solito più o meno nella solita nel solito orario di durata della puntata io vi ricordo che questa puntata la potete poi seguire anche con Demands YouTube che sarà disponibile tra qualche giorno ma ovviamente sarete avvisati su tutti i canali social e a proposito di canali social io vi invito a seguirmi su tutti i canali social di UK Calcio potete trovarmi su Instagram e ovviamente su TikTok dove pubblico dei video esclusivi solo dedicati solo a quel a quel canale la community anche lì sta crescendo davvero tantissimo e mi fa molto piacere su Facebook dal 2009 che UK Calcio è presente quindi si continua Twitch è la nuova piattaforma di UK Calcio dedicata proprio al al live e su Twitter ci sono molti aggiornamenti soprattutto in diretta durante le gare di campionato quindi specialmente nel weekend lì vi aggiorno su tutto quello che accade in tempo reale ovviamente come nello studio di UK Calcio cerco sempre di darvi notizie particolari non quelle che potete trovare su tutti i canali di informazione nazionali quindi io vi invito sempre a seguirmi perché ci saranno anche tantissime altre novità nelle prossime settimane quindi novità che uniche per questo tipo di community e per chi ama davvero il calcio d'oltremanica perché poi la passione va condivisa c'è poco da fare però condivisa in un certo modo cioè dando un certo messaggio e facendo capire il vero senso del calcio che in Inghilterra ancora in certe realtà e soprattutto nella storia si trova sempre benissimo quindi siamo andati un po' oltre il tempo che in genere si dedica a queste puntate mi fa molto piacere ringrazio chi mi ha seguito in diretta saluto Giovanni che che adesso mi sta facendo in diretta proprio scusa Giovanni l'ho vista di sfuggita questa domanda ne approfitto quindi per la propria inchiusura per leggere Giovanni mi chiede perché secondo te il Forest Green cade troppe volte anche avendo una squadra almeno sulla carta forte guarda Giovanni noi di questa cosa ne parlammo già qualche settimana fa infatti io ti dissi che secondo me il Forest Green il problema del Forest Green era diciamo trovare un giusto equilibrio purtroppo e soprattutto a certi livelli secondo me quindi nel campionato del Forest Green la rosa forte non sempre è sintomo di risultato cioè avere una rosa importante con i nomi non significa sempre risultato io ti prometto che cercherò di informarmi ancora di più sul Forest Green e sulla situazione societaria perché si è strano però io credo che ci sia ci sia qualche problema anche a livello di spogliatoio e di atmosfera proprio nella squadra e la squadra su questo ne risente perché poi secondo me questa schizofrenia di risultati è proprio sintomo di problemi all'interno dello spogliatoio secondo me però insomma di questo poi ne potremmo parlare più diffusamente nelle prossime nelle prossime puntate vediamo anche se il Forest Green riuscirà a riprendersi avere qualche diciamo cercare di dare una scossa ai risultati vedremo cosa accadrà io invito te e tutti gli ascoltatori presenti in diretta a seguirmi anche su Instagram perché la settimana prossima ci sarà UK Calcio Social Pub che come già ho presentato la settimana scorsa sarà una trasmissione a cui potete partecipare tutti chiunque può scrivermi un'email ukcalcio chioccio al gmail punto com se ha avuto qualche esperienza nel Regno Unito qualche esperienza diretta se ha avuto o ha qualche storia da raccontare perché ha vissuto direttamente il calcio inglese sul posto oppure gestisce un fans club italiano di squadre inglesi può raccontare la sua storia in diretta su Instagram in un'atmosfera assolutamente informale senza nulla di preparato quindi vi invito ancora una volta per l'appuntamento di giovedì prossimo dove abbiamo ospite Massimo Corsini che è una persona un amico a me molto caro una persona che ha avuto grande esperienza a Londra e sono certo che ci racconterà delle bellissime esperienze io vi saluto ancora vi ringrazio di essere stati con me in questa mezz'ora di diretta streaming e vi do ovviamente appuntamento alle prossime puntate qui su Twitch e seguitemi sempre sui canali social per essere aggiornati sulla programmazione ciao a tutti